E ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo 114esimo della nostra serie di minecraft ita Prima di iniziare ragazzi vi chiedo a tutti quanti di seguirmi su instagram Dobbiamo cercare di superare i 10.000 follower Ne mancano circa 3.000 ma so che possiamo riuscirci Il mio nick è questo qui, trovate anche il link in descrizione Quindi mi raccomando seguitemi tutti quanti Mentre per questo episodio cerchiamo di superare i 2.527 like Iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti attivando anche la campanellina E detto questo dire possiamo iniziare subito Perfetto ragazzi eccoci qui Allora oggi andremo a fare un paio di cose Per prima cosa andremo a sistemare le pareti della nostra camera da letto Quindi andremo a levare la diorite o l'andesite Non mi ricordo mai la differenza Cioè non mi ricordo mai i nomi Che cosa sei tu? Il granito Ah giusto le granite al limone Perfetto Quindi andremo a levare questi blocchi di granito E andrò a seguire un vostro consiglio Ovvero andremo a fare la parete con gli stone brick Perché così andremo a riprendere sotto i vostri consigli Il camino che abbiamo fatto qua Oltre al fatto che comunque come abbinamento Diciamo che ci sta abbastanza Ci servono adesso ragazzi La riblocchi di brick E c'è un problema Ho notato una cosa Ho perso la mia shulker box rossa Mi sa che l'ho messa per sbaglio a smistare Quindi forse se abbiamo fortuna Sarà dentro una di queste chest Ragazzi abbiamo perso la mia shulker box rossa Seriamente Dove è finita? Per sbaglio l'avrò messa a smistare Se stava finita penso O dentro qualche chest O sarei rimasta nel circuito Non lo so Raga qualcuno si è rubata la mia shulker box rossa Non so veramente dove si è finita E vabbè Per fortuna che per ora non ci serve Quindi come detto ragazzi Ci servono i blocchi di brick Ovvero questi qua Quindi vediamo quanti blocchetti riusciamo a fare E se quindi nel caso non bastasse Dobbiamo andare con la nostra pala A raccogliere altri Altri pezzettini di clay Per fare altri brick Ne abbiamo 38 Forse bastano ragazzi Non lo so Adesso andremo a provare A proposito della pala Mi hai detto una cosa Ovvero Emerald Unisci le pale soltanto Se ti rimane fortuna E non silk touch Nel caso Unendole Avrai anche Silk touch Non unirla E questo qui ragazzi A breve lo andremo a provare Quindi prima di tutto Andiamo a smontare qua il tutto Quindi diamo tutti questi qua Allora quello Lo possiamo lasciare Perché non si vede Ce la farò mai a salire lì? Sì Perfetto Ok Incominciamo qua ragazzi Adesso a scavare il tutto Vabbè Si smonteranno un paio di cose Non è un problema Ok Incominciamo a mettere I nostri brick Spero tantissimo Che avete ragione Sul fatto Che sia un buon abbinamento Comunque Mi sa che proprio non bastano Allora come abbinamento Ragazzi ci stanno Da molto il senso di rustico Mi piace Ragazzi mi piace veramente Ottimo consiglio Grazie mille Andiamo a mettere su questi due bottoni qua Dobbiamo mettere questo No Non voglio questo Allora Dobbiamo mettere questi due bottoni qua E il quadretto qua Adesso dobbiamo andare invece A riempire questi qua Non ci credo ragazzi Per due stombriche Non ce la facciamo Ah no Invece si perché già qui è fatto Perché noi adesso andiamo a levare qua E mettiamo questi così E questi qua Ce ne avanzano invece due Ottimo Nice Perfetto Li possiamo un attimo lasciare qui Ora come seconda cosa ragazzi Andremo Un attimo Nel nostro galeone Perché dobbiamo andare A prendere la testa del drago E stiamo chiedendo Ma perché la testa del drago Perché voglio fare Un esperimento Magari riuscissi a partire Con l'elitra Ma cosa succede Che non riesco più a partire Con l'elitra Voglio prendere la testa del drago Perché noi ne abbiamo un'altra E potremmo sfruttarla Come decorazione All'interno Della stanzetta segreta Che ho fatto All'interno Della nostra camera da letto Quindi Adesso Scendiamo qua E dobbiamo prendere La testa del drago Ora che ci penso Non aggiorno Da un bel poco Ragazzi Il diario Che sta nel nostro galeone Tipo da 20 episodi Io purtroppo Questi impegni così Non me li devo ne ormai prendere Perché io non li rispetto Io sono così Comunque Cerchiamo adesso di prendere La testa del drago Ce la facciamo Penso di sì Che poi ho messo Sta cosa qui Non funzionava Quindi è pure inutile Cioè dovrei mettere Una leva qui Per farlo muovere Vabbè Comunque Prendiamoci anche Questa testa del drago Ora adesso Un'altra domanda Ma dentro Questo shulker Ah ok Abbiamo l'altra testa del drago Perfetto Ok Perché se era nella shulker rock Sei veramente Mi salivo in aria Così E mi buttavo Gimpicchiato in questo modo Per ammazzarmi E no Volevi Allora ragazzi Noi adesso qua dentro Dobbiamo avere Un'altra testa del drago Ecco qua E anche l'altro paio Di elitra Quindi abbiamo due teste Del drago Ci serve Del quarzo Perché rumori inquietanti Perché mi fa Di rumori inquietanti Ogni volta Mi fa prendere Un infarto Cosa ci serviva Del quarzo Speriamo che basti Raga Allora Dobbiamo essere Molto Precisi Quindi dobbiamo fare Dei blocchi Facciamo Otto blocchi Di questi otto blocchi Tre li sacrifichiamo Per fare delle slab Mi sa raga Che andiamo un attimo Nel nether A pigliare un paio di blocchi Dai si 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 Facciolci un attimo Sta scappatella Nel nether su Che poi anche A proposito di Scappatella Nel nether Forse Nell'episodio 115 Per fare qualcosa Diciamo di speciale Andremo a fare Un altro advancement Ovvero Dove 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 Nether Questo qui Quello di portare Un ghast Nell'overworld Però prima Andremo a fare anche quest'altro Ovvero quello di camminare Per 7 km Nell'overworld Quindi dobbiamo fare Mille blocchi Nel nether Mettere un portale E poi Praticamente Fare Un altro portale Ancora più grande Insomma è un macello Ragazzi È un macello Dobbiamo cercare di portare Un ghast Nell'overworld Allora Serve del quarzo Da sotto già vedo del quarzo Ma è vicino alla lava E sinceramente vorrei Evitare Allora io mi ricordo Che qui ho preso Un sacco di quarzo Sia per il nostro disco volante Comunque già Ne ho trovato Dell'altro A posto Farei una piccola Scorta di quarzo Ormai che ci siamo Dai visto siamo nel nether Raga Che c'è costa Insomma Comunque nella intro Ragazzi Perché vi ho chiesto Di seguirmi su instagram Sia perché Ho pensato Di diventare più attivo Su instagram Perché come avete notato Per chi mi segue Metto pochissime foto Mi metto tipo una settimana Faccio sento delle storie Che a maggior parte Sono stupide Però voglio iniziare a prenderlo più seriamente come social Perché ho notato che molti di voi mi scrivono nei messaggi in direct su instagram E quindi si Diciamo che vorrei appunto sfruttarlo di più Anche perché Voglio iniziare a seguire anche tutte le fanpage su di me Quindi se volete creare una fanpage su instagram Su di me potete tranquillamente farlo Anche fare dei meme Perché ho pensato di caricare anche tutti i vari meme sul mio profilo instagram Quindi ragazzi Se volete fare una fanpage Potete farla tranquillamente Basta che poi mi scrivete in direct E vi follow Tranquillo Cioè seguirò tutte le mie fanpage Ho preso questa decisione E cercherò di rispettarla Allora ragazzi Ho preso due stack e venti Penso che può bastare Ok Vai Possiamo tornare a casa Comunque ragazzi A partita da febbraio Ci saranno anche Diverse novità Una fra queste È una questione sulle live Dove ci saranno diversi aggiornamenti E cose un pochino particolari Comunque Allora adesso abbiamo il quarzo Quindi Ok E direi a questo punto Intanto di fare una crafting table E metterla anche qua dentro Perché qua non abbiamo una crafting Anche qui Non sarebbe male Quale sarà il fulcro di questo video Già penso l'avete capito dalla copertina Andremo a creare Uno stand Per la nostra mela di nocce La golden apple Quella ultra mega rara Che è rara appunto E quindi dobbiamo farlo Però prima di tutto Mi serve della stone Perché dobbiamo fare Altri armor stand Perché voglio fare una cosa particolare Allora intanto Pgliamo Andiamo a fare quindi Sì Degli armor stand Quindi andiamo a fare Delle slab Quindi sì facciamo Due armor stand possono bastare Sì 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 Due armor stand bastano Dove possiamo mettere questa crafting Allora o la mettiamo leggermente nascosta Tipo qui A terra Oppure a posto di questo blocco Ci potrebbe stare Vediamo Propriamo qui crafting Ma ci sta Ci sta perché si ricollega bene Con sia questa menzola Che con la libreria Quindi a posto Topissimo raga Siamo proprio De pro Allora Passaggio segreto A noi due Qua dentro noi abbiamo Dei pistoni Che ci serviranno Anche ci servirà In realtà Anche questo qui Dobbiamo aprire Il passaggio segreto Dobbiamo mettere All'interno un po' di cose Mettiamo roba Fin quando non sentiamo Che si apre Ok A posto si è aperto Quindi ho fatto questa piccola Stanzetta veramente Semplicissima ragazzi Dove dentro andiamo a fare Appunto Il nostro Diciamo Stand Per la nostra Mela incantata Più di tutto però Voglio provare una cosa Prendiamo questi Armor stand Ne mettiamo Tipo uno qua E uno qua E mettiamo Una testa qui E una testa qua Ok Così entriamo Ci sono questi due Teste di drago Che ci guardano Però vedere gli armor stand Così è brutto Quindi cosa ho pensato Prendiamo I blocchi di quarzo Tipo questi qua Prendiamo Un pistone Anche se sticky piston Non è importante Facciamo così Faccio adesso un attimo Una torcia In redstone Facciamo così Guardate Stack Come vedete Il blocco si va Diciamo a fondere Con l'armor stand Da quest'altra parte Invece andiamo a fare La stessa cosa Con una slab Vediamo come esce E' una prova Che sto facendo ragazzi Insieme a voi Allora Vediamo un pochettino Perché in questo modo È come se la testa Fosse poggiata Sopra dei blocchi Che come idea E concept Non sarebbe male Tac Spacchiamo così Tac Allora Primo parere Ci sta tantissimo Non mi piace il problema Che compare sto coso qua Lascio uno con la slab E uno senza slab E qua sotto nei commenti Mi scrivete voi Se è meglio con o senza slab Perché comunque dai Anche se si vede sto coso Pochi in porta Insomma dai È come se fossero i denti Tipo Quindi dai Si potrebbe interpretare In questo modo La torcettina Tac E questo qui Ragazzi è fatto Qua non è comparso Perché Perché è più chiusa Prendiamola Rimettiamola Ma prendi in giro Scusatemi Che cosa cambia Cioè qui non si vede E qui si vede What Qui è più chiusa Qui è più aperta Forse in base All'orientamento Dell'armor stand Quindi mi sa ragazzi Forse in base All'angolazione Dell'armor stand Va a cambiare L'apertura della bocca Può anche essere Adesso do un attimo Riscendere sotto Perché ci servono Due blocchi Cioè no In realtà ci serve Un blocco soltanto E ci serve Della pelle La pelle la pigliamo Qua sotto Eccola Qui ne serve uno E ci servono dei blocchi Ovvero Questo qui Ci serve proprio Questo blocco Saliamo sopra Così facciamo Finalmente Questo stand Per la nostra Mela di notch In modo che Diciamo È leggermente più protetto Perché è una stanzetta Secreta Quindi ci servono Intanto delle scalette Che possiamo fare Con questi blocchi qua Come diciamo Stand per la nostra Mela d'oro Pensavo a una cosa Più o meno così Guardando un pochettino Mettiamo tipo questo Perfetto Prova più il razzetto Questo così La scaletta messa In questo modo Poi il blocco qua E poi Una slab qui E un'altra slab qui Ed infine L'item frame Messo qua Con la nostra Mela di notch A me piace Essere sincero Mi piace parecchio Ragazzi Ci sta abbastanza Come cosa Ci prende anche più spazio Ci prende abbastanza spazio E quindi A mio parere È abbastanza ottimo Perfetto ragazzi Lo score in cima Di questo episodio L'abbiamo completato Io direi che adesso Possiamo invece passare Alla parte della pala Quindi La nostra carissima pala Era questa qui Andiamo sotto Con la nostra Anvil Allora Pala normale Con quest'altra Oddio raga È proprio Esce proprio Come vogliamo noi Efficienza 5 Unbreaking Fortuna E Mending 13 livelli Se la facciamo al contrario 12 Ah 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 No però qua c'è Silk Touch No 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 Così 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 Eh ragazzi L'abbiamo fatta Vorrei darvi un nome Particolare a questa pala Non so se avete qualche idea Un nome molto Scherzoso Molto da meme Qui non so Se avete qualche idea Scrivete da qua sotto Nei commenti Perfetto ragazzi Detto questo Io direi che questo episodio La nostra serie Di minecraftita Può anche terminare qui Quindi ragazzi Questo episodio Finisce qui Spendentissimo Vi sia piaciuto Vi ricordo Di seguirmi tutti quanti Su instagram Cerchiamo di superare I 10.000 follower Oltre a seguirmi su instagram Vi invito a seguirmi anche Su telegram Trovate il link Qua sotto in descrizione Vi invito poi anche A lasciare un pollicione in su E un commento Se questo episodio Della vanilla Vi è piaciuto Ed infine Iscrivetevi al canale Se ancora non vi siete iscritti Volendo Prescrivetevi al canale E basta cliccare Nella volta che sta Qui c'è dentro lo schermo E se ce l'avete fatto Per cliccare a sinistra O a destra Per vedere un altro I miei video No no ragazzi Questo episodio Della vanilla Finisce qui E noi ci vediamo domani Alle 14.30 Con un nuovo video Ciao a tutti